Piazza Antonello è sempre stata Piazza Antonello per i messinesi, ma abbiamo voluto dare un'informazione aggiuntiva Piazza Antonello da Messina, pittore, uno dei maggiori riferimenti del rinascimento europeo. Questo servirà praticamente al turista in transito in questa città per poter seguire un itinerario sui luoghi di Antonello o che ricordano Antonello per una città che gli ha dato i Natali. Iniziative prossime in programma sempre nell'ambito del progetto Messina-Città di Antonello? Stiamo creando quindi un puzzle fatto da tanti tasselli, il prossimo appuntamento sarà giorno 21, giovedì prossimo presso la chiesa di San Francesco all'Immacolata alle 18.30, dove presenteremo il quadro della Pietà con tre angeli che è esposto al Museo Corriere di Venezia dove Antonello dipinse proprio le abisi della chiesa di San Francesco. Avremo veramente la possibilità di approfondire con questo argomento e San Francesco all'Immacolata diventerà proprio uno degli itinerari di sosta di questo percorso.